Anche quando ci sia il villaggio, quindi il nostro villaggio di San Felice, l'Orexon che riuscisse al meglio, c'è una collaborazione veramente fattiva e molto forte di tante anime del paese, quindi c'è la banca, c'è la colloca, c'è il comune, c'è un gruppo di volontariati che saranno strepitosi, senza di loro non sarebbe stato possibile nulla, quindi c'è per un villaggio che partecipa perché questo istituto venga e riesca al meglio.